BELLA A TUTTI DA PORK MODS Solo un giro perchè ho visto che durava tanto Ci ho visto che era tipo lunga Undici chilometri se non mi sbaglio Ok allontaniamo un po' la visuale E andiamo Oh mio dio Dritti Seguiamo a loro Oh raga io mi sparo un bel glide Oh sui Oh mio dio Ok Siamo belli primeri Ok Che strada strana è Oh mio dio Dove sono gli altri Ok Andiamo moderati Mamma mia Raga è pericolosa Questa strada ve lo dico eh Ok Chi c'è Qua dietro raga c'è qualcuno che mi sta recuperando Ok vedo che sta andando un po' lentino sui Però qua È veramente pericoloso Sento il rumore Della cucio drag Ok sui Non mi sbaglia qua Quanto manca alla fine Raga aspettate eh Fammi indovinare chi è Stiwi Non voglio guardare O è Stiwi O è Lorenzo Non lo so raga Non ho idea Oh aiuto 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 Ok Che gara spettacolare Adesso si può vedere chi era A cappa Oh sui Quanto corri Ok Proseguiamo Ecco abbiamo un bel tubo Dove dobbiamo andare di bello Spariamoci un bel gestaccio Ok qua c'è un check Wow guardate che spettacolo lo scheletro Miniglide Si Oh 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 mio dio raga sono vivo Sono vivo Sono vivo Meno male A cappa non ce l'ha fatta Ok No Perché sono andato storto raga Non ho idea Comunque siamo belli primeri Non proprio C'è a cappa che sta qua dietro X a 21 Fantastico Dritti Ho saltato storto raga Oh mio dio No 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 Sui 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 Siamo vivi Sì sì Allora sui Sparate un bel flip flop Oh Le ci siamo Prendiamo questo bel check E qui è un bel gp Andiamo tranquilli Ok Cerchiamo di non sbagliare nada Motocicletta di nuovo Si Che moto è? Sempre a cucio drag Si si Veloce veloce Oh mio dio Andiamo al massimo Eh regala Cuccio drag Gira poco eh Quindi è una moto Veramente pericolosa Ok Facciamo attenzione Che non gira la cuccio eh X a 21 di nuovo Che gara fantastica Di Leo Bardellis Saliamo su Ok Dove dobbiamo andare? Ah è un basket Cosa è successo? Ce la faccio? Ad occhio Sapete che non ce la faccio? Oh mio dio Regà ho imparato le misure Benissimo su GTA eh Va bene che ho sbagliato Però Si vedeva Adesso ce la faremo Sì? Mettiamo la macchina così? Allora Si 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 Ma proprio al limite Vediamo No quasi al limite Ok Cos'è? Oppressor Questa moto trolla regà Ok 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 No 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 Siamo vivi eh Allora facciamo attenzione Qua Mamma mia regà è pericolosissima L'oppressor eh Attiviamo il turbo Ok Proseguiamo Ma non c'era tipo un glitch Per andare più veloci? Non lo so regà Non ho idea Andiamo 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 Qua c'è il check Ok Giriamo Dritti Si si Andiamo andiamo belli rapidi Il secondo è sempre a K Facciamo attenzione Ok E ora dobbiamo tipo saltare Dov'è lo scheletro? Mamma mia Andiamo 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 Sui Bello alto Sui Più alto Sui No regà non ce la fa salire No 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 regà Aspettate eh Perché? Dobbiamo fare per forza Il giro da qua Speriamo che a K Non mi frega la prima posizione Ok Rigiriamoci di nuovo E andiamo Abbassiamoci Veloce 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 Sui Ok Mamma mia Lo scheletro è fantastico eh Veramente carino Ah e là c'è la nostra bella primera posizione Andiamoci a prendere questa bella primera posizione Prossima gara Ok Seconda gara Questa gara è stata creata da Gabricolo64 Vi lascio il suo canale in descrizione Questa gara si chiama Multistunt E ho letto nella descrizione che ci sono Tantissimi veicoli Non me li ricordo nemmeno Liberator Bestia Strike Force Shotaro Che stiamo guidando Zentorno E Limousine Credo eh Beccate Beccatele questo regà Ok Vedi dove bisogna andare Io vado di Qua Oh mio dio Siamo vivi Sì sì Siamo pure belli primeri Meno male Ok Cerchiamo di fare queste curve Alla perfezione Ok Impegniamo Così andiamo più veloci qua Turbo Facciamo attenzione al turbo eh Cos'è glide Vai vola 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 Sui Vola sui Molliamo il glide Prima che moriamo Ok Stanno tutti là eh Aereo Oh mio dio Ok Questo è lo Strike Force Se non mi sbaglio Credo di sì eh Ok Su questo account C'ho pochissimo volo Però Vedo che si porta bene Però seguiamo Quanta strada c'è eh Ok regà Andiamo C'è stata solo una piccola interruzione regà Oh mio dio Sono tutti qua dietro eh Guarda che velocità Ragazzi c'è qualche metodo per andare più veloce con l'aereo Non lo so Però io so solo che Mi sta recuperando a K Sempre lui Mamma mia che suino eh Ok Barca Oh mio dio Che salto Stanno tutti qua Guardate a K Che velocità Ok ok Rimaniamo concentrati No gira gira Barchetta No 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 Che casco sui Beccate questo Ah suona sì sì Il gestaccio lo fa eh Però non si vede tanto Il gestaccio Oh mio dio Spettacolari Le gare Le barche Ok Mamma mia che saltino Che ha fatto E qui cosa abbiamo Di bello Sui sui Oh mio dio Insieme Sui sui E' pericoloso E' pericoloso Sui Ok Ma lui è ancora senza collisioni Sui come facciamo a flippare in due Io non freno eh Ok Oh mio Dio Sono vivo Eppure a K E' vivo eh Ma che spettacolo era Eravamo Con senza collisioni Raga Ok No 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 Sui 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 Mamma mia Al limite Eh qua ci vuole un po' di cordolino eh Ok Guarda l'orzoino Quanto core eh Ok raga Prendiamo questo bel check Del tè di trasporto Limousine Mamma mia Sui Mottearo Che è successo alle limousine di a K Guarda Non gira Non gira Non gira Non gira Sui Ok Facciamo attenzione qua Dove bisogna andare Sui Ah sui dei trolli eh Guarda l'orzoino Come se trolla Sui come te supero qua Ok No sui Non te voglio trollare Però qua C'ho la precedenza Io Andiamo Andiamo a K Guardate che carerita Dove dove sui Qua 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 Dove sei sui Perché non mi fa guardare indietro Ah ma è l'ori Ok raga Io taglio qua Non so se faccio bene Sì 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 Va bene Sui non mi spinge Fre 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 E infilate dai C'hai la precedenza a te Ok Ok Bella questa gara Guardate dove passiamo Addirittura Ok Oh Oh raga Ok Rimaniamo dritti Mamma mia Che mega rampa Fina Ok Io non mi sparo niente C'ho paura Se non l'ora Insomma frega La prima posizione Siamo vivi Sì Ma il povero AK dove sta È rimasto trollato Credo di sì E ora Mamma mia Quanto stiamo andando veloci Ok Mettiamoci bene Oh mio dio Cosa c'è qua Sui Cosa Frena 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 Liberator Raga Fantastica questa gara Perché ci sono flip Qua c'è Tipo un park Curito Guardo qua Sui No no Dove sta andando lui Non è meglio qua Sembrerebbe di sì Saliamo qua raga Non mi cascate sotto però Ok Siamo primeri No 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 Raga non guardiamo indietro Guardate Lo c'è che dov'era Ok Facciamo attenzione Andiamo piano Ok ok Adesso belli veloci Che bella gara Oh mio dio Ragazzi C'è che non si vedono Sono leggermente troll No 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 Sui Non ti incastra qua Ok Andiamo il check E andiamo Sta qua dietro lui Dobbiamo fare attenzione Dove sta È lì È lì È lì Cosa c'è là Aspettate Check del teletrasporto Dove ci porterà Ah Abbiamo vinto Comunque sia Se vi è piaciuta la gara Con lo scheletro gigante La gara multistunt Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate il mio secondo canale Big Pork Saluti Versi suini Bye Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.